Non ho fatto in tempo a vedere che mi è stato molto in colpo per non essere più tornato dopo la morte di mamma, ma non volevo ricordarmelo così. Nella memoria si ricorda solo quello che vuole ricordare. Sei cambiata, ma sembrate quasi la stessa persona. Ma scusi, ma ci conosciamo? È strano, è passato tanto tempo, eppure sembra tutto così presente. Tuo padre parlava sempre di un fatto che era successo prima della tua partenza. Che stavate facendo là fuori con quello? Guarda che ti ho visto. Io ce l'erò, ci sono sempre stato. Guarda tranquilla. Arrivo. Non andare. Qua siamo al sicuro, non ci può trovare. No. Grazie a tutti.